ricordati di vivere ho pensato che può essere importante presentarvi le cinque regole della comunicazione biografico solidale perché sorrido perché a volte capisco che dico dei titoli che uno dice oh mio dio che cosa sta per dirci questa cosa non mi interessa in realtà la comunicazione è un tema che riguarda tutti tutti noi comunichiamo comunichiamo bene comunichiamo male o meglio comunichiamo in maniera efficace comunichiamo in maniera invece per nulla efficace e spesso e volentieri prima di tutto mi rendo conto che i conflitti nei dialoghi negli scambi oppure l'incapacità di capirsi partono dal fatto che ognuno crede di portare con sé una verità è una verità spesso assoluta in realtà noi portiamo nelle relazioni nei dialoghi la nostra verità che certo è tale ma rimane legata alla nostra biografia alla nostra esperienza a ciò che ha fatto sì che noi ci siamo fatti quell'idea dell'esistenza di quella specifica situazione dell'esistenza di quel tipo di relazione portiamo con noi bisogni esperienze del passato gli analisti transazionali direbbero cupioni che ci portano ad essere in un certo modo ma non voglio parlarne in termini psicologici perché ci mancherebbe qua rimandiamo ovviamente ad altre sedi però mi interessa invece poter portare un modo che potremmo imparare a praticare all'interno dei nostri dialoghi per provare a far sì che i dialoghi diventino davvero uno scambio di arricchimento reciproco è un momento in cui ci interessa davvero comprendere e ascoltare quello che l'altro ci sta dicendo e altrettanto essere messi nelle condizioni per cui l'altro possa realmente accettare e accogliere quello che noi stiamo dicendo per poi comprenderci per poi trovarci magari anche un po' trasformati da quel dialogo perché se davvero ci siamo aperti non usciamo da un dialogo esattamente identici a come quando ci siamo entrati ma sul tema del dialogo torneremo perché poi ovviamente è un tema anche molto caro alla filosofia in particolare ovviamente se pensiamo a tutti i dialoghi socratici ma queste cinque regole che vi dicevo sono nate da molti anni fa dai primi esperimenti che romano madera e vero tarca fecero in particolare a venezia quando fondarono la compagnia di ognuno quindi un gruppo di persone che così iniziò a sperimentare la filosofia come stile di vita e si resero conto che proprio per praticare la filosofia tanto più in gruppo era necessario avvalersi di una metodologia relativa alla comunicazione che secondo me davvero potremmo usare in alcuni momenti delle nostre giornate dichiarandolo all'inizio che quella cornice a filo lo facciamo molto spesso nella nostra scuola di pratiche filosofiche verrà gestita attraverso quelle regole e se siamo in molti o comunque più di due evidentemente vale la pena che qualcuno faccia il custode delle regole perché sembrano molto facili in realtà è facile anche deviare e tornare a delle modalità comunicative sulle quali siamo un po abituate perché anche alla comunicazione ahimè non veniamo molto educati già da bambini e allora queste regole sono cinque la prima il riferimento all'esperienza biografica è sempre presente indipendentemente dal tipo di discorso ora se noi aprissimo ogni cosa ogni frase che diciamo dicendo secondo me sarebbe tutto più facile a partire dalla mia esperienza direi che non ci sarebbe forse bisogno di sottolineare questa regola ma quando anche uno entri sparato dentro a una comunicazione affermando chissà quale presunta verità cerchiamo di ricordare che comunque è riferita alla sua biografia e quindi è una sua verità non sentiamoci immediatamente attaccati o che in qualche modo appunto c'è una verità contro un'altra c'è una verità biografica due le affermazioni dell'altro vengono accolte come espressione del suo sé e delle sue credenze quindi in qualche modo questa discende dalla prima ciò significa che la comunicazione si discosta dall'opposizione di tesi in competizione per una verità che escluda la verità dell'altro se io parto dal presupposto che tu parli a partire dalla tua biografia evidentemente seconda regola non prendo ciò che dici come una opposizione netta tra la mia verità e la tua verità e quindi il dialogo non è immediatamente un ping pong in cui io mi sento attaccata ti rispondo e vediamo quale verità vinca ma io posso restare nell'ascolto perché non mi sento minacciato da una verità che vuole eliminare o mettere in discussione la mia verità l'ascolto dell'altro è aperto il che significa che tende a sospendere ogni interpretazione sostitutiva del tipo quel che ho sentito è solo una copertura di qualcun altro noi facciamo spesso interpretazioni di quello che sentiamo diamo giudizi siamo pieni di pregiudizi rispetto a quello che ascoltiamo facciamo molta dietrologia come si dice cioè della sorta di psicologia in scatola no ah sì tu stai dicendo così ma in realtà lo fai perché vuoi questa cosa in realtà pensi qualcos'altro in realtà tu vuoi no proviamo a metterci in una situazione di apertura e di ascolto dell'altro quello che sta dicendo è quello che sta dicendo e accettiamolo ascoltiamolo in una apertura il più possibile ampia proprio perché appunto si possa sospendere ogni interpretazione e accogliere la comunicazione che arriva dagli altri 4 il contributo la restituzione di chi ascolta tendono a esprimersi come un'offerta anamorfica il che significa la possibilità che il diverso punto di vista scopra altri aspetti di ciò che si è detto e che questi altri aspetti possano essere liberamente presi in considerazione trascurati da chi guida l'incontro cioè significa il quadro anamorfico è quel quadro che in base al punto da cui lo guardi osservi qualcosa di diverso è come se noi avessimo qua tra di noi fossimo in cerchio un oggetto ciascuno di noi ne vede una parte e allora l'espressione di quello che io vi racconterò di questo oggetto deve essere presa come l'espressione della mia posizione su quell'oggetto che grazie a quello che esprimeranno gli altri che vedono l'oggetto da altri punti di vista andrà a comporre una visione ampia non un un conflitto per decidere chi vede la cosa giusta o la parte giusta ogni parte è un contributo ogni visione ogni espressione ogni punto di vista è un contributo per un arricchimento di quella visione e quinta regola forse la più difficile la tentazione della distruttività nella contrapposizione confutativa deve essere sospesa e riesaminata autoanaliticamente e in silenzio traduco in maniera semplice se qualcosa che gli altri o l'altro ci dice ci irrita profondamente anziché semplicemente saltare in testa all'altro arrabbiarci e agire in quel fastidio quell'aggressività quella distruttività che ci si è mossa di fronte alla sua espressione proviamo a tenerla lì questa reazione questa fatica questo fastidio a chiederci perché mi da così fastidio cos'è che mi disturba di quello che ha detto su cosa mi sono sentita attaccata giudicata messa in pericolo a che fare più con te che con l'altro ascolta questo aspetto e magari trova il modo eventualmente di portare all'altro questa tua difficoltà ma come ascolto di ciò che è emerso e non come reazione aggressiva e distruttiva a ciò che hai ascoltato cinque regole che se ci allenassimo a utilizzare ogni tanto in contesti familiari in contesti professionali in contesti formativi vi assicuro che sono estremamente formative estremamente trasformative e ci aiutano e ci insegnano a stare nella relazione in un altro modo sia con noi stessi che con gli altri quindi provateci se avete domande scrivetemele ma queste cinque regole della comunicazione biografica solidale quindi biografica ognuno la propria storia solidale perché va nella direzione appunto di una comunicazione reciproca e rispettosa e non invece distruttiva o di affermazione di sé possono essere un grandissimo esercizio filosofico fatemi sapere come va ci vediamo giovedì prossimo